E' in corso il posizionamento in questi giorni di quattro Velobox nel comune di Abano Terme. Sono i primi perché da anni in questo comune venivano attuate politiche contrarie all'uso di questi apparecchi. Tuttavia, proprio sapendo di questo fatto, gli automobilisti tendevano a spingere sull'acceleratore. Il funzionamento delle quattro nuove colonnine arancioni sarà a random e sarà segnalato dalla segnaletica e dalla lucetta gialla lampeggiante. I Velobox, a differenza dei tradizionali autovelox, non contengono sempre il dispositivo per rilevare le infrazioni che verrà posizionato a discrezione dei vigili solo determinati giorni a determinati orari. Il limite in tutte le postazioni sarà di 50 km orari e potrete trovare le colonnine su Via Diaz, Via Appia-Monterosso, Via Cesare Battisti, Via Sampio X. Buona Pasqua a Ponensi! Sfiscimber Channel News, Abano Terme!